Sfruttamento della prostituzione e truffa ai danni dello Stato. Sono questi reati contestati a vario titolo a sei indagati nell'ambito dell'indagine condotta dalla squadra mobile della questura di Pescara in sinergia con l'Inps. Questa mattina sono state spiccate due misure restrittive in carcere nei confronti di una donna, Oleva Leviscina, 42 anni, e di un quarantenne romeno latitante. Un altro ucraino di 50 anni è indagato a piede libero, così come indagati sono anche un 57enne agente immobiliare di Pescara e i due genitori della donna ucraina, che erano i soggetti che ricevevano la pensione e sono tuttora in Ucraina. La donna ucraina da tempo sfruttava l'attività della prostituzione svolta da decine di ragazzi all'interno di tre appartamenti a Pescara e Montesilvano, due dei quali di sua proprietà, incassando ingenti profitti, circa 6.000 euro al mese, derivanti anche dalla ripetuta locazione in nero degli immobili. La donna, inoltre in concorso con i suoi genitori, in violazione della normativa sull'assegnazione delle pensioni sociali, ha attuato una truffa ai danni dello Stato italiano. Infatti i due anziani genitori, fin dal mese di marzo del 2008, percepiscono la pensione in Italia, anche se vivono stabilmente in Ucraina e conservano solo fittiziamente la residenza anagrafica. Le verifiche effettuate in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, istituti bancari, poste italiane e Automobile Club Italia hanno fatto emergere che l'indagata e il suo nucleo familiare, pur restando intestatari di due pensioni sociali, risultano proprietari di beni mobili, immobili e depositi di denaro non giustificati dalla dichiarazione dei redditi. Per questo il GIP ha emesso anche un decreto di sequestro preventivo di tre appartamenti, di un'autovettura e di un conto corrente postale, per un valore complessivo di oltre 400 mila euro. La nostra indagine nasce su un giro di sfruttamento della prostituzione, un giro di escort di alto livello, tariffe importanti, un giro d'affari davvero notevole e incidentalmente siamo incappati in questa storia di truffa ai danni dello Stato. C'è un'intercettazione che ci ha particolarmente infastiditi perché si prendevano gioco dello Stato italiano e ritenevano di essere al sicuro a riparo da ogni controllo perché sostenevano a loro dire, evidentemente sbagliandosi, che in Italia certe cose non funzionano.